È vero che vi siete messi d'accordo, perché io a un certo punto ho ricevuto un messaggio da fonte autorevole è fatta, è così? Ma direi che siamo veramente a buon punto, nel senso che abbiamo cominciato a parlare di temi ma soprattutto c'è stata una convergenza nel decidere che comunque è il momento giusto e si sono create le condizioni giuste per dare il governo al paese. Quindi adesso stiamo parlando dei temi, ma direi che c'è una grande volontà da parte dei due leader che hanno vinto in qualche modo il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio con una percentuale che conosciamo bene di oltre il 32% e la Lega che comunque ha avuto una performance importante a queste elezioni c'è questa volontà di a questo punto procedere, visto che sono venute meno una serie di condizioni di realtà che ci ostacolavano, che ostacolavano questo percorso e quindi sì, il percorso è molto positivo, adesso bisognerà vedere ancora nei prossimi due o tre giorni ma credo che sia anche un percorso breve che consentirà di arrivare a un risultato entro la prossima settimana. Quindi conferma che domenica andrete dal Capo dello Stato a dirgli che c'è stato un accordo anche se poi lo dovrete incontrare per comunicare la proposta di Presidente del Consiglio. Sì, sicuramente entro la fine di questa settimana bisogna dare una risposta anche al Quirinale che ha gestito tutta questa crisi, questa situazione con grande equilibrio, con grande attenzione che sta concedendo, come aveva detto sin dall'inizio, le forze politiche del tempo laddove, come in questo caso, ci fossero stati dei segnali positivi i segnali sono arrivati, il Presidente sta attendendo una risposta quindi direi che è verosimile che entro la fine di questa settimana si dia una risposta precisa, decisa al Presidente. E' vero che né Di Maio né Salvini saranno Presidente del Consiglio? Diciamo che in questo momento l'ipotesi, si stanno valutando diverse ipotesi però l'ipotesi più certa in questo momento è quella di trovare un nome terzo che risponde a quello che Di Maio aveva dichiarato già ormai da qualche giorno che tiene conto anche evidentemente di una disponibilità in tal senso di Salvini e quindi un nome terzo potrebbe essere un nome che in qualche modo rappresenti innanzitutto quello che si scriverà nel contratto di governo quindi dovremo scrivere il contratto di governo e individuare la persona più autorevole, più adatta, coerente con quello che scriveremo nel contratto di governo. Un parlamentare o una persona fuori del Parlamento? Questo diciamo fa parte delle cose su cui stiamo ancora ragionando è possibile che essendo una figura terza possa essere anche al di fuori. E' vero che Salvini e Di Maio sarebbero Vice Presidente del Consiglio? Io credo che Salvini e Di Maio si stiano assumendo agli occhi di molti nell'Italia ma anche a livello internazionale una responsabilità forte di un governo che come sappiamo da alcuni viene visto anche con timore ma così non è, poi lo vedremo, lo vedremo anche nei temi soprattutto che proporremo nel contratto di governo quindi secondo me è evidente che sia Salvini che Di Maio debbano avere una responsabilità politica rispetto a questo governo molto forte se questo poi significherà avere anche un ruolo diciamo a livello di ministri o di altro all'interno del governo lo vedremo veramente un minuto dopo che chiuderemo il contratto di governo però è fuori discussione che i due debbano avere un ruolo politico di indirizzo, di responsabilità di questo governo molto forte è ragionevole aspettarsi Di Maio agli esteri e Salvini agli interni? Veramente di caselle non ne abbiamo parlato in modo specifico diciamo di vocazione, mettiamola così, dai è una vocazione, cioè Salvini agli interni non è uno scoop insomma le vocazioni di Salvini non le conosco ancora a tal punto diciamo da poterle prevedere quelle di Di Maio un po' meglio e credo che la vocazione di Di Maio in questo momento sia ricoprire qualunque ruolo possa servire al paese e possa servire a fare bene vedremo quale Stasera è uscito un comunicato congiunto dei due partiti la base del contratto piena sintonia sul metodo che significa? Significa che abbiamo innanzitutto individuato i temi fondamentali su cui reggerà il contratto di governo e quindi quelli che erano stati anche dei punti fermi della campagna elettorale per noi il reddito di cittadinanza innanzitutto magari per loro la flat tax che però in parte riprendeva anche alcune cose nel nostro programma l'immigrazione, la sicurezza e la legge Fornero sono sicuramente i quattro punti principali su cui si baserà questo programma adesso cosa stiamo facendo? Ma costano un sacco di soldi è verissimo è verissimo e infatti quello che noi stiamo facendo del lavoro che intendiamo fare prima di parlare di nomi prima di parlare di altro adesso è vedere la praticabilità economica di queste proposte perché nel contratto di governo ci sarà anche questo quindi visto che molti ci dicono quello che voi volete fare è irrealizzabile noi faremo in modo anche chiaramente indicando le risorse e i tempi che è una cosa altrettanto importante di attuazione di queste cose quindi anche non potrà avvenire tutto chiaramente nel primo periodo ma bisognerà anche prevedere una programmazione attenta di tempi ma noi nel contratto di governo scriveremo anche questo proprio per dare la possibilità a tutti ai tecnici, all'opinione pubblica, a chi ci guarda dall'estero di valutare la concretezza delle nostre proposte un conto come sappiamo è la campagna elettorale un conto adesso nel momento in cui bisogna governare e risolvere i problemi delle persone è vero quello che ha detto Emilio Carelli non deputato del Movimento 5 Stelle che comunque non si sfonderanno i parametri di Maastricht cioè sarà sempre all'interno del 3% che l'Italia dovrebbe stare molto più bassa e già sta alla metà più o meno ma insomma che non uscirete dal 3% direi assolutamente sì anche perché questo governo nasce comunque nell'ambito di alcune posizioni che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre dichiarato sull'euro e il modo in cui vogliamo stare in Europa pur volendo rimettere in discussione una serie di cose ma tenendo fermi i vincoli come quello di cui parlava lei A me interessa da capire quale potrebbe essere il primo atto di governo del 5 Stelle Lega lei ha citato prima quattro punti mi sembra che la convergenza sicura ci sia sull'abolizione o comunque la revisione della Fornero e sul blocco dei migranti degli arrivi, diciamo, degli sbarchi cosiddetti ecco, questi potrebbero essere i primi due atti di un futuro Consiglio dei Ministri oppure invece la parte più economica cioè la flat tax o il reddito cittadinanza hanno la priorità Vede, quello che noi stiamo cercando di scrivere al contratto di governo sono anche proposte che alla fine leggendoli tutte insieme diano un'idea di paese cioè diano un'idea di paese di quello che noi vogliamo tra 5 e 10 anni ma anche di più e soprattutto per le nuove generazioni quindi quando le dicevo prima che noi metteremo un crono programma molto chiaro su queste cose e proprio per dire non è che tutto potremo fare nei primi Consigli dei Ministri ma vogliamo spiegare agli italiani quando e come faremo le cose per dove porteremo l'Italia nel tempo noi abbiamo assistito in questi anni a governi che facevano sempre cose per accontentare qualcuno nell'immediato e magari dare qualche piccolo beneficio nell'immediato ma poi nel paese non è cambiato nulla e i dati lo confermano questa volta noi stiamo scrivendo un contratto di governo che prevede tante cose prevede una tempistica e prevede un governo che deve essere un governo che deve durare un governo di legislatura un governo forte come quello che stiamo provando a mettere in piedi un governo politico che possa durare 5 anni per realizzare tutte queste cose in un arco di tempo temporale quindi non so al primo Consiglio dei Ministri quale di queste cose Alla staffetta è prevista oppure no? No ma questa cosa della staffetta diciamo è stata molto più raccontata che non è nella realtà almeno insomma non mi risulta che possa essere questo Non mi risulta che ne abbiate parlare però No ma voglio dire quando si parla di fare un governo come quello che sta per nasce si parlano di tante ipotesi però oggi come dicevo prima l'ipotesi più certa è quella di cui abbiamo parlato del terzo nome Senta io non vorrei diciamo far emergere i problemi però ecco sull'Europa sui conti lei ha detto saremo molto attenti ma avete posizioni molto diverse con Salvini qual è il punto di caduta la mediazione che avete trovato con Salvini anche sulla politica estera appunto sull'euroscetticismo Orban le posizioni filorusse di Salvini avete trovato già una mediazione lo scriverete nel contratto di programma? Assolutamente scriveremo queste cose nel contratto di programma Ci sarà un capitolo di politica estera nel contratto? Ci sarà un capitolo di politica estera anche perché le cose che dice lei evidentemente sono le cose che sono comunque nefatti anche di posizioni che sono state espresse più volte in campagna elettorale come dicevo prima la premessa quando il dottor Vespa mi chiedeva il metodo è che entrambe le forze adesso sono consapevoli del fatto di voler fare un governo per dar vita a un governo si trovano nella maniera più nobile del termine dei punti di contatto nel rispetto soprattutto di quello che si può fare per i cittadini e quindi io credo che anche sull'Europa anche sui sforamenti anche sulle posizioni internazionali noi stiamo cercando in questo contratto e proprio per questo ci metteremo anche qualche giorno in più in altri paesi ci hanno messo settimane e mesi noi per fortuna avendo fatto già un lavoro in queste settimane che non sono poi così andate a vuoto di stesura insomma delle ipotesi di contratto che avevamo già avviato per provare a fare un governo nelle settimane scorse quindi siamo un po' più avanti e ci consente questo lavoro che abbiamo già fatto di arrivare adesso in queste ore ad avere già delle possibili soluzioni che adesso abbiamo sottoposto oggi alla Lega sabato ci sarà il secondo incontro di questo tavolo che si è riunito questa mattina cioè domani lavoreranno ancora i tecnici sia del Movimento 5 Stelle che della Lega separatamente o congiuntamente? anche congiuntamente perché bisognerà confrontarsi ancora su tante cose anche di dettaglio sabato pomeriggio invece è previsto il secondo incontro diciamo con i rappresentanti politici dei due forze politiche come quello di stamattina insomma come quello di stamattina e così vediamo entro sabato sera entro domenica mattina prima di dare qualunque tipo di risposta al Presidente della Repubblica che tipo di sintonia si sarà trovata perché ripeto anche il nome del Premier eventualmente deve essere un nome del Premier che sia coerente con quello che noi scriveremo sul contratto di governo ma già immaginate di proporre al Presidente della Repubblica domenica il nome del Premier? no non credo e presto sarà un Premier di formazione più istituzionale o più economica? diciamo che in un governo del genere servono entrambe le figure quindi evidentemente è nel quadro generale del Consiglio dei Ministri della formazione del governo che bisognerà trovare tutte queste posizioni bisognerà trovare chi riesce anche a livello internazionale a parlare al nome del nostro Paese in modo attorevole chi abbia posizioni e ruoli più istituzionali chi si occupi di economia possa occupare di economia in maniera molto competente quindi diciamo sarà un governo che dovrà prevedere necessariamente tutte queste figure ma soprattutto anche molta parte politica nel senso esponenti politici che si assumano responsabilità a nome delle due forze politiche quanti ministri ci saranno? io credo che sarà un governo snello nel senso che oltre ai 13 ministri previsti ministri con portafoglio che sono obbligatori e sono previsti credo che ci saranno pochi pochi altri ministri senza portafoglio per andare a individuare proprio dei temi delle tematiche che sono come dire meno di 20 direi di sì che sono punti di forza detto appunto dalla nota congiunta di questa sera quindi ci sta tutto il superamento legge Fornero la sburocratizzazione riduzione legge e regolamenti bocca al lupo perché tutti ci provano reddito di cittadinanza con iniziale potenziamento dei centri per l'impiego quello che noi abbiamo sempre detto a Di Maio ma come fate a dire ti do questi soldi in attesa poi di cercarti un lavoro se i centri per l'impiego non funzionano mi pare di capire che voi prima di parlare di reggio di cittadinanza potenzierete i centri per l'impiego questo lo dovremo fare secondo me proprio nei primi mesi quindi è inutile che fatto il vostro governo i cittadini corrano ai centri di assistenza fiscale a dire oddio come lei sa questa cosa era stata un po' raccontata diciamo più come colore chiariamo non ci potrà essere subito l'erogazione materiale lavoreremo immediatamente perché l'erogazione fisica del reddito di cittadinanza possa avvenire nel più breve tempo possibile il giorno dopo che si insiede al governo no studio sui minibot che idee avete sui minibot? noi allora questo è il nostro programma quello che sta leggendo noi oggi abbiamo la necessità di metterci insieme a un'altra forza politica perché evidentemente è quello che stiamo facendo e quindi oggi il tavolo che abbiamo iniziato è un tavolo che si deve confrontare con questa forza politica su tutto dai minibot ad altro quindi oggi non c'è più un unico programma oggi c'è la necessità di tener fede a quelle che sono state le nostre battaglie storiche più importanti ma per il resto direi che vale la pena aspettare questo lavoro in qualche modo è una somma dei due programmi poi lotta alla corruzione contrasto all'immigrazione clandestina legittima difesa cioè c'è una somma qui dei due programmi a un certo punto dovrete un po' sfrondare perché fare tutto ma assolutamente assolutamente ma lo faremo in maniera molto seria cioè non vorremmo proporre un programma dei sogni ma una cosa fattibile ed è quello che stiamo facendo in queste ore che entro la fine la settimana prossima il nuovo governo potrà giurare? io penso di sì perché è un lavoro che sta andando avanti bene se ci sono le condizioni sui temi non ci saranno problemi sulle caselle sui nomi perché saranno una conseguenza avete sentito che su certe caselle il presidente vi marcherà molto molto stretti ma è giusto che sia così anche perché noi abbiamo tutto come dire l'interesse a fare in modo che questo governo nasca anche con le persone giuste per durare tutta la legislatura e per rispondere ai problemi dei cittadini venendo al nome terzo di cui avete parlato lei ha detto coerentemente Di Maio lo dice qualche giorno ecco ma noi dobbiamo immaginare che sia un nome terzo cioè diverso rispetto a due partiti contraenti il famoso contratto oppure può essere espressione di uno dei due no se è terzo è terzo diciamo è vero che qui in Italia terzo è sempre diciamo un parametro molto relativo però un professore lo sforzo non parliamo di professori di tecnici però magari sarà anche uno professore come titolo non lo so però voglio dire lo sforzo è quello di individuare una persona che effettivamente possa essere equidistante cioè una sintesi diciamo di queste due anime culturali delle due partite certo ecco ma una persona che ha già avuto un'esperienza di governo oppure no? veramente su questo non abbiamo ragionato quindi direi che è importante che sia una persona autorevole che rappresenti bene il nostro paese farà il presidente del consiglio non è che fa una cosa secondaria ma questo è generazionale per esempio cioè in realtà questo governo sarà espressione di due leader molto giovani un poco più di 30 anni un altro poco più di 40 anni ecco ma dobbiamo immaginare che il premier sia in linea con questa svolta generazionale oppure no? guardi noi abbiamo fatto sempre un ragionamento e credo che varrà anche per la squadra dei ministri credo e spero che al di là dell'età cioè l'importante è scegliere anche persone competenti non siamo quelli che vogliono come dire come qualcun altro mi pare diceva insomma la rottamazione o cose del genere a tutti i costi ma vale la pena l'altro quarantenne comunque sì appunto però insomma poi non mi pare sia andata benissimo l'importante è scegliere anche persone giuste quindi non è un problema adesso di mettere simbolicamente un altro giovane come ha detto lei giustamente abbiamo Di Maio che ha 32 anni Salvini che era un poco più di 40 ci saranno sicuramente altre persone giovani immagino in questo governo se il presidente del consiglio sarà una persona della stessa età o più grande credo che è importante essere una persona qualificata una donna? perché no? voglio di molto immaginare che la prossima volta che lei verrà qui verrà da ministro io sto contribuendo come tanti in questa fase secondo me a una fase bella di sviluppo di crescita del movimento che sta tenendo sempre fede ai suoi valori al suo fondatore alle idee base ma si sta anche innovando per dare delle risposte per diventare una forza capace veramente di stare al governo bene io come altri do un aiuto un contributo senta visto che in questi giorni anche oggi la borsa non è stata negativa ci sono preoccupazioni molto forti spread è salito anche oggi vorrei capire sul ministero dell'economia il nome a cui pensate sarà guardando anche questo cioè di tutelare un po' la stabilità finanziaria del paese avete già in mente un nome e volevo capire anche l'attitudine con la quale andrete al capo dello Stato cioè porterete un pacchetto chiuso oppure dialogherete con il capo dello Stato soprattutto su questa casella dell'economia anche degli esseri interni certo ma innanzitutto io credo che noi tranquillizzeremo i mercati così come i nostri partner internazionali soprattutto sui tempi cioè nel senso se faremo anche in breve tempo e se metteremo le persone giuste ma soprattutto se firmeremo il contratto con i temi giusti e con le coperture di bilancio giuste perché questa è la prima cosa che guardano gli addetti ai lavori se noi scriveremo invece un programma con delle coperture non esatte o altro questo creerebbe disastro ma questo è quello che noi non faremo perché faremo invece un buon lavoro su quello che riguarda il ministro dell'economia ripeto io credo che una volta un giorno dopo un minuto dopo che firmeremo il contratto che sarà pronto il contratto dovremo guardare al consiglio dei ministri nel suo complesso quindi potrebbe essere un ministro tecnico ma non escludo anche che possa essere un ministro politico perché per tanto tempo anche nel nostro paese l'economia proprio perché è il cuore di tante scelte fondamentali è stata anche affidata da persone che avessero deve essere uno che quando va a sedersi all'eurogruppo possa dire con forza e autorevolezza la posizione ha dei titoli per essere rispettato assolutamente quindi non è detto però che questo debba essere un tecnico per forza anzi voglio dire possiamo interpretare l'autorevolezza che bisogna avere a quei tavoli anche per esempio in Repubblica non c'erano tecnici a questi ministri erano stati sempre politici tecchi sono venuti più tardi e poi vi rispondere ad una domanda sul Quirinale per esempio tante persone come anche Giorgetti in economia come ce l'hanno altri come sono autorevoli altri esponenti delle due forze politiche per il Quirinale ovviamente come nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica ci saranno delle proposte su cui evidentemente siamo convinti saremo convinti e poi col Presidente ci confronteremo chiaramente ma credo che il dialogo con il Quirinale e col Presidente della Repubblica durante tutto questo periodo dalle elezioni in poi almeno per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle sempre stava un dialogo proficuo corretto e credo che continuerà così il proposito di conflitto di interessi Di Maio a un certo punto sarà spinto a dire nessun uomo politico può controllare le televisioni questo significa che Berlusconi dovrebbe abbandonare il controllo di Mediaset farete questo? ma intanto se faremo e come sicuramente tratteremo il tema del conflitto di interessi non è che lo facciamo per qualcuno o contro qualcuno io la televisione non ce l'ho loro nemmeno non è che siamo tanti ad avere a possedere televisione in Italia sono pochini allora sicuramente noi non torneremo indietro su nessuno dei temi di cui abbiamo parlato anche in campagna elettorale però io vorrei dire anche una cosa si parla tanto in queste ore del fatto che ci possa essere stata comunque una sorta di contatto trattativa con Berlusconi che abbia chiesto non abbia chiesto io credo che Berlusconi abbia fatto un atto di responsabilità con quello che ha detto con quello che ha comunicato sta consentendo che noi di cui prendiamo atto mettiamo così sta consentendo di far nascere un governo quindi nell'interesse del paese dopodiché noi quello che avevamo detto dall'inizio cioè che non avremmo fatto un governo con quella forza politica non ci saremmo seguiti a tavolo a firmare un contratto con quella forza politica lo abbiamo ottenuto adesso il tema è far partire le cose perché le persone giustamente aspettano da noi delle risposte c'è un'aspettativa enorme rispetto a un governo Movimento 5 Stelle a quello che ci interessa non ci è stato chiesto nulla se ci fosse stato chiesto non saremmo stati disponibili quindi devo dire da questo punto di vista non sono preoccupato perché non sono state avanzate le richieste né noi il giorno dopo che arriviamo lì intendiamo fare qualche tipo di barricata nei confronti di qualcuno quello però che abbiamo detto conflitto interesse legge contro la corruzione e altro quello lo dobbiamo fare perché quello è un nostro dovere è sempre stato un punto fermo del Movimento lo faremo e sarà anche nel contratto di governo Forza Italia destinata a diventare un alleato come dire a secondo gli argomenti possibile per i singoli provvedimenti oppure è una presenza d'opposizione come il PD come le sa i numeri sono molto chiari Movimento 5 Stelle e Lega hanno una maggioranza netta sia alla Camera che al Senato per cui noi poggiamo su questo il contratto di governo lo facciamo con la Lega i voti ce li aspettiamo dalla Lega poi il dibattito parlamentare come lei lo insegna ed è più vari e su ogni provvedimento si possono trovare anche nell'interesse dei cittadini altri tipi di convergenze ma non saremo certo noi a cercarle perché per noi il contratto resta con la Lega e con la Lega da soli abbiamo i numeri per lavorare bene sia alla Camera che al Senato avete i numeri fino a un certo punto però perché alla Camera avete 31 seggi di maggioranza e al Senato le avete 6 vabbè ho visto di peggio anche diciamo soprattutto al Senato e ho capito però ha visto anche che quel peggio è dovuto scendere a patti a compromessi abbiamo per fortuna dottor Vespa due gruppi mi arrivo a quello abbiamo per fortuna dottor Vespa due gruppi parlamentari molto uniti molto compatti uno c'è il raffreddore un altro c'è il raffreddore vabbè però non ce la tiri nel senso che alla fine noi adesso comunque voglio dire noi partiamo con i migliori auspici se poi al Senato dovesse avere dei problemi capiremo avendo una certa esperienza diciamo diciamo che al Senato di seconda Repubblica so che ci stanno dei momenti in cui 6 6 parlamentari in tutti i governi no ma poi al Senato vista la situazione è molto più probabile dico numeri alla mano che forse Italia possa eventualmente contribuire se ci sono provvedimenti per questo dicevo più che il PD però io penso una cosa stiamo dimenticando fratelli d'Italia io non ho capito è in maggioranza o no il contratto noi lo scriviamo solo con la Liga le posizioni generalitarie ma i voti servono quindi immagino che i voti secondo questo schema diciamo al Senato oggettivamente adesso scherzi a parte sono dei voti diciamo giusto di equilibrio però io credo che ci sia un interesse talmente forte da parte della Liga da parte del Movimento 5 Stelle soprattutto sui temi su cui ci siamo spesi tanto in questi anni cioè la volontà di dimostrare che queste cose noi siamo veramente in grado di farle che non credo sinceramente che il problema saranno i numeri perché secondo me le cose importanti che noi ci stiamo impegnando a fare le faremo e avremo anche se di sei numeri la maggioranza per approvarle pensate anche a ministeri innovativi non so perché prima lei mi è sembrato di sì prima accennavo secondo me al fatto che sarà comunque una squadra snella però evidentemente qualche ministero senza portafoglio ci sarà e credo che un ministero che ancora non c'è ma ci sono dei temi che sono stati molto forti sia per la Liga che per noi vediamo sulle disabilità su altri temi importanti su cui le due forze politiche sono molto battute in campagna elettorale potrebbero essere quelle le occasioni per dar vita a un ministero senza portafogli ma senza fare come si faceva in passato tanti altri ministeri senza portafogli viceministri sarà un governo nel complesso numericamente sicuramente molto snello quindi saranno anche pochi viceministri? ma io non so neanche se ci saranno i viceministri setta è uscita adesso la DN Cronos che dice che tra i punti della nota Movimento 5 Stelle e Liga manca il conflitto di interessi diciamo che non è una cosa prioritaria mettiamola così no come l'ho detto il conflitto di interessi sarà nel contratto di governo diciamo smentisco la nota setta lei viene in televisione per la prima volta ma non solo da quando è stato eletto ma anche da quando fa politica in maniera in maniera attiva come ha fatto questo stacco rispetto alla sua vita precedente insomma ha avuto anche qualche amicizia politica ma soprattutto lei è stato presidente appunto diciamo dell'Unitalsi piuttosto che dell'Unicef e anche invece presidente e garante dell'infanzia intanto questa è un'opportunità straordinaria che il movimento mi sta offrendo come ha offerto a tantissime persone che questa volta si sono candidate soprattutto negli uninominali abbiamo eletto oltre 320 parlamentari di mettere in pratica attraverso la politica attraverso speriamo anche l'azione di governo le cose per esempio le battaglie su cui io mi sono sempre speso sia come Unicef come garante per l'infanzia quindi per me è un modo di partecipare a questa grande famiglia che è il Movimento 5 Stelle ma anche sperare nei prossimi giorni di riuscire a cominciare a incidere in maniera concreta sulle cose di cui mi sono sempre occupato nella vita io non ho memoria di una coalizione chiamiamola così anche se questa cosa a voi non piace che vada così d'accordo almeno nei programmi lei insiste però l'una di miele diciamo la luna di miele se siamo al secondo giorno diciamo di incontri se già non fossimo la rissa del terzo giorno sarebbe un po' troppo sarebbe insomma andiamo di tempo ma voi ricordate dei comunicati così al secondo giorno dopo le elezioni quando bisogna fare il governo sia a sinistra non dico quando c'era Bertinotti ma anche a centrodestra ma quando mai dai no però volevo dire questo c'è un aspetto antropologico che secondo me va calcolato perché evidentemente è nelle cose cioè di un feeling oggettivo tra Di Maio e Salvini cioè i due si piacciono c'è poco da fare perché senza questo non ci sarebbe stato né il colpo di scena finale perché quella se vogliamo nel corteggiamento c'è stato un sì quasi inatteso insomma no quando sembrava che ormai il finanziamento non si facesse e poi comunque evidentemente c'è un comune sentire la parte delle battute anche nei contenuti per cui i due alla fine ragionano anche quando tutto sembra continuare se posso dire una cosa diciamo senza addettrarmi sui feeling personali diciamo però sicuramente c'è un tema il Movimento 5 Stelle è la prima volta che andrà al governo e la Lega che sicuramente ha avuto altre esperienze però in una fase anche la Lega di grande cambiamento c'è una grande voglia un grande desiderio di fare le cose e di dimostrare ai cittadini che tutte le battaglie fatte in questi anni poi diventeranno cose concrete gli altri partiti sono stati logorati secondo me da decenni in cui sono stati al governo senza riuscire poi a fare una paracidio noi siamo uniti anche dalla voglia una forte voglia di parricidio no siamo una forte voglia di fare le cose cioè di dimostrare che siamo una forza matura che è in grado di governare questo paese al contrario di quello che gli altri partiti che l'avevano devastato questo paese hanno raccontato di noi no direi che anche per Di Maio diciamo questo era un treno assolutamente da non perdere quindi io direi quasi obbligato che sia io a dirlo diciamo mi sembra abbastanza però io credo che Luigi Di Maio abbia gestito tutta questa fase con grande attenzione con grande senso di responsabilità anche quando una settimana fa proprio per evitare che ci fossero fraintendimenti sulla sua posizione ha chiarito in modo chiaro e lo vedremo adesso anche nei prossimi giorni che non era un problema personale ma c'era necessità di fare un contratto di governo e che le persone venivano in secondo piano credo che abbia dimostrato nonostante come molti a volte dicono la sua giovanità molto più senso di responsabilità di altri che pur essendo più grandi questa responsabilità non l'hanno dimostrata il risultato elettorale dice che una voglia di cambiamento c'è stata forte voi adesso vi assumerete una enorme responsabilità siamo qui anche con l'emozione e il senso di responsabilità forte di fare il buon lavoro in bocca al lupo grazie grazie a tutti grazie a tutti